Ciao, io sono Roberta e benvenuti in questo video. Oggi ho deciso di registrare la mia TBR, ovvero vi andrò a parlare brevemente dei libri che vorrei leggere durante questo mese di novembre. In realtà non porto molto spesso sul canale la mia TBR, però devo dire che da un lato mi serve per cercare di tenere un ordine nelle letture a cui voglio dedicarmi in un determinato mese e dall'altro lato ci possiamo vedere, in questo caso a fine novembre, per sapere se i libri che ho letto mi sono piaciuti oppure no. Quindi vi invito a lasciarmi nei commenti anche i vostri libri che avete in lettura, che volete leggere o che già avete letto e mi volete consigliare perché io prendo sempre spunto. Infatti in questa TBR c'è anche un libro che mi avete consigliato voi, quindi lasciatemi sempre i vostri consigli perché io sono ben lieta di prendere appunti e poi leggere i libri che mi consigliate. Allora, partiamo da un libro che in realtà non avevo neanche in programma di leggere, questo cuscino mi sta dando fastidio, non avevo in programma di leggere questo libro che è Rosso Istanbul di Ferzan Ospetek, l'avevo visto più volte su Instagram o comunque sui vari social, mi aveva un po' incuriosito il titolo perché mi piacerebbe tanto visitare questa città e quindi una volta in libreria, una volta trovandomi di fronte a questo libro, ho deciso di comprarlo e provare a leggerlo. Devo dire la verità, non avevo neanche notato il nome dell'autore, ho scoperto poi, comunque mi sono ricordata di aver già sentito il nome di questo scrittore, pensavo fosse uno scrittore, in realtà lui è un regista, regista di diversi film abbastanza famosi come ad esempio La Dea della Fortuna e non mi ricordo quali altri, magari vi metto la locandina qui accanto. Insomma, sicuramente avrete sentito parlare, se non di lui, dei suoi film. E quindi, dico la verità, inizialmente ero un po' perplessa, ho pensato, ma non è che questo libro avrà più che altro un'impronta cinematografica piuttosto che letteraria, non so, vedremo, magari è un valore aggiunto. Lui infatti è un regista nato a Istanbul, quindi un regista turco, che si è trasferito poi a Roma per studiare cinema. E questo libro racconta un po', e credo sia proprio autobiografico, tutto parte da un suo viaggio a Istanbul, un ritorno a casa, nella sua casa d'infanzia, dove lui visse in una sorta di harem, tutto al femminile, con la mamma e le zie, che sono abbastanza particolari, mi è sembrato di capire, dei personaggi delle zitelle, piuttosto birichine, e però un'infanzia felice, intervallata però da momenti difficili, come il rapporto con il padre, questo padre che ha origine italiane, qui anche il suo amore, comunque attaccamento all'Italia, padre che appunto però è stato assente per diversi anni, e con il quale non ha avuto un rapporto facile, e la sua storia, questa storia che ci racconta, autobiografica, è intervallata da alcuni capitoli che invece sono dedicati a un altro personaggio, una donna, che si ritrova nello stesso aereo di Ferzan, diretto a Istanbul, lei però è un'italiana, che ha organizzato un viaggio ad Istanbul con il marito e una coppia di amici e collaboratori, si ritrovano nello stesso aereo, poi probabilmente si rincontreranno, non so in quali condizioni. Credo che però la vera protagonista di questo romanzo e il motivo per il quale effettivamente ho comprato questo libro è perché appunto la vera protagonista è e dovrebbe essere Istanbul. vedremo cosa mi aspetterà. Fatemi sapere se voi l'avete letto e cosa ne pensate. Proseguiamo poi con un libro che non è proprio nuovo sul canale, ve ne ho già parlato, sempre in maniera molto blanda, perché ancora non l'ho letto, nel video che avevo dedicato alle letterature di altri paesi. vi lascio qui sulla scheda da qualche parte il video in questione. Sto parlando di Timandra, di Todoros Callifatidis. Lui è uno scrittore nato in Grecia, quindi appunto greco, che però poco più che 20 anni si trasferisce in Svezia e credo che viva ancora lì. Ormai è abbastanza grande, ha più di 80 anni. Questo suo libro risale, se non sbaglio, agli anni 80 e poi è stato recentemente ripubblicato da Crocetti Editore. Mi aveva incuriosito per appunto il tema trattato, quindi la Grecia antica ogni tanto a me piace leggere libri che si propongono come una rifiutazione di miti o di storie del mondo antico. In realtà forse questo è più particolare, perché credevo che la vera protagonista di questo libro fosse appunto Timandra. Timandra è stata un etera vissuta nel V secolo ed è stata anche amante di Alcibiade. È la vera, il vero protagonista, la figura principale in questo libro è in realtà Alcibiade, raccontato però da Timandra, sua etera e anche sua amante, donna che rimase a lui vicina fino al giorno della sua morte e infatti tutto parte proprio da quel giorno, meglio dall'ultima notte che Timandra passa con il suo Alcibiade. Prima che lui si rechi dal re di Persia per chiedere aiuto alleanza e in cui lo stesso giorno, siamo nel 404 a.C., fu però ucciso. Alcibiade è stato un famosissimo condottiero, generale, politico ettenese, conosciuto soprattutto perché durante la guerra del Peloponneso cambiò più volte schieramento, prima con gli etnesi, poi con gli spartari, si fece quindi numerosi nemici. Quindi, diciamo che è un racconto di questo amore più che altro perché la parte storica, quindi la cornice storica è ovviamente presente, siamo nell'antica Grecia, guerra del Peloponneso, il Cibiade, generale greco e così via. In realtà però mi è sembrato di capire che il vero protagonista è un po' l'amore, questo sentimento fortissimo che Timandra sente per il suo Alcibiade. Leggendo qualche recensione però, mi è sembrato di capire che effettivamente si tratta di un amore più che altro carnale, questo amore carnale che è un po' il fulcro della vita in generale di Timandra. Timandra è un etera, quindi è una sorta di prostituta, ma più che prostituta, erano delle donne che oltre ad offrire prestazioni sessuali, oltre ad offrire il loro corpo, poi intrattenevano anche delle relazioni abbastanza lunghe con i clienti, come in questo caso Timandra con Alcibiade, che diventa la sua amante, e fino anche ad arrivare ad ottenere un certo potere, anche insomma un potere decisionale molto alto. E se ci pensiamo, diciamo che purtroppo, ma nel loro caso per fortuna, nell'antica Grecia, queste donne erano un po' le uniche ad avere una indipendenza di questo tipo, quindi un potere decisionale probabilmente ottenuto principalmente per via del loro corpo, del loro fascio, della loro bellezza, ma un potere che poi alla fine è un'indipendenza che riuscivano poi ad ottenere. Quindi diciamo che ovviamente si basa su una figura femminile che rispecchia i modelli di quel periodo dell'antica Grecia. Quindi sono un po' confusa, ma nello stesso tempo curiosa di leggere questo romanzo, questo punto di vista di Timandra, scritto però da uno scrittore uomo, che però dà la voce a una figura femminile che a quel tempo sicuramente era inascoltata, una voce che è andata persa, perché si tratta di voci femminili che appunto non sono mai state prese in considerazione. Un altro libro che voglio leggere è che finalmente mi sono decisa di comprare, è sicuramente La boutique del mistero di Dino Buzzati. Questo libro, che in realtà è un libro di racconti, l'avevo sempre visto in libreria, perché fa parte, è uno di quei libri che fa parte della promozione di Mondadori, che non so se è ancora in atto, però io l'ho trovato qualche settimana fa. Fa parte appunto della promozione due libri soltanto 10 euro, due libri Mondadori soltanto 10 euro. Sono libri scelti, quindi c'era appunto questo tavolo in cui c'erano diversi titoli. E ho deciso di prendere finalmente, perché mi ero sempre fatta fermare da questo fatto che si tratta di un libro di racconti. ho preso questo e quest'altro libro, che si intitola Meno 12, ora adesso è tutto appiccicoso, perché attaccano insomma l'adesivo che ho scritto 10 euro, e quindi poi rimane appiccicoso, ma vabbè. Meno 12 di Pierdante Piccioni con Pierangelo Sapegno. Mi aveva incuriosito la trama di questo romanzo che mi sembra di averla già sentita, non so se è una serie tv o una fiction o un film, non mi ricordo. Comunque è la storia vera di Pierdante Piccioni, medico primario all'ospedale di Lodi, che per un incidente perde la memoria e perde 12 anni di vita praticamente, perde 12 anni di memoria e deve ricominciare tutto da capo. Mi faccio sempre incuriosire da storie vere che poi alla fine diventano libri o romanzi e quindi ho voluto prendere questo libro in coppia con questo di Dino Guzzati. Mi sono un po' pentita perché, vi dico la verità, c'era anche un libro di Dario Bressanini, che è un chimico molto famoso su YouTube io lo seguo da tanti anni, ma anche su altri social, Instagram, credo pure su TikTok, che spiega un po' la chimica delle pulizie, dei detersivi, dei cibi. Sono libri abbastanza pratici, nel senso che sono in grado di farci comprendere la chimica degli alimenti, dei detergenti e di tutto quello che quotidianamente ci circonda. Non l'ho preso perché mi sono fatta incuriosire di più da questa storia, però vabbè, va bene qui. Questo lo leggerò poi più in là. Vi dico la verità, per curiosità, ho letto un racconto, ho letto un brano. Sono 31 brani, tra l'altro, scelti dallo stesso buzzati come i suoi migliori e raccolti in questo boutique, la boutique del mistero. E mi sono anche accorta che nella copertina quello che io credevo fosse un insieme di verdure, probabilmente perché il mio cervello ha fatto un'associazione tra la parola boutique e questa immagine. Credevo che si trattasse di una boutique di ortaggi e verdure. In realtà, guardando meglio e più attentamente la copertina, sono sì delle verdure, perché questa mi sembra una carota, questa mi sembra un fungo, ma in realtà ripropongono delle immagini, soprattutto di una figura femminile. Non so il motivo, vediamo. Ho appena letto che in copertina si tratta di ritratto del califo Mash e Rum e delle sue venti mogli, quindi queste sarebbero le sue venti mogli in versione frutta e verdura. Ok, quindi dicevo, ho letto per curiosità un racconto ed effettivamente la sensazione che mi ha dato è proprio quella di essere un po' avvolto nel mistero di situazioni surreali, a volte insomma fantastiche che hanno come protagonista l'uomo, anche la solitudine dell'uomo, i pregi e i difetti dell'umanità. Sono forse situazioni anche tragicomiche perché leggendo alcune recensioni mi sembra di capire che ci sono anche alcuni racconti che fanno un po' sorridere. però devo dire che ad oggi non mi sono pentita di aver comprato questo libro e vediamo cosa accadrà a fine mese una volta terminata la lettura. Io sono così con i racconti inizialmente tendo a non sceglierli mai poi però alla fine se sono ben scritti e se se sono particolari ecco alla fine tendo a leggerli velocemente e a volerne sempre di più vediamo se anche con Dino Buzzati sarà così. Ed infine un libro che non ho qui come Timandra ma Timandra l'ho preso su versione Kindle questo invece di cui vi andrò a parlare lo sto aspettando l'ho preso su Amazon si tratta della Romana di Alberto Moravia questo libro me l'ha consigliato uno di voi quindi ho deciso di dargli una possibilità non ho letto tantissimo di Moravia perché non mi ha mai attirato moltissimo ma ho sempre detto di voler recuperare se non tutte ma almeno gran parte delle sue opere ho deciso di leggere la Romana perché non conoscevo bene la trama di questo libro in realtà si tratta proprio di una donna di una ragazza romana lei si chiama Adriana che vive durante il periodo fascista e spinta da una madre che tutto è tranne che è empatica e solidale e spinta anche dalla società di quel tempo e dai dogmi sociali di quel tempo alla fine si trova a vivere situazioni che la porteranno poi su una brutta strada lei in realtà è una ragazza se è una popolana che vorrebbe semplicemente sposarsi e vivere felicemente in una casetta e fare una famiglia mentre vive sotto le pressioni di una madre che tra l'altro la spinge a posare nuda per alcuni artisti e poi penso che lei alla fine percorrerà la strada anche della prostituzione e quindi insomma sono curiosa di leggere questo libro più che per la trama perché vorrei approfondire questo scrittore quindi Alberto Moravia che sappiamo avere i suoi temi principali temi che in questo libro sono appunto un po' una donna e il suo declino morale e in un'Italia fascista che sappiamo essere un'Italia che ricerca il potere la corruzione è un libro degli anni 40 se non sbaglio è uscito pubblicato nel 1947 è anche abbastanza grosso perché sono più di 500 pagine quindi la mia TBR si ferma qui perché anzi spero di riuscire a leggerli tutti entro questo mese se così non sarà non fa nulla non mi pongo il problema non è una gara con me stesso semplicemente è la volontà di leggere più libri però appunto alla fine se ci riuscirò ben venga altrimenti ne parleremo poi il mese successivo bene io mi fermo qui spero che questo video vi sia stato di compagnia fatemi appunto sapere le vostre letture io vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video ciao